Palmatrio toglie Ferri, pressing B è favorito, 2-0-9, 3-42 per Tebar. Si ritrae il numero 7, Palmatrio. Di galoppo Primula Matley. Per Tebar, dalla seconda fila, trova un varco e va ad impegnare Petra Almar. Si ritrae Prunella, sfonda per Tebar, dopo 200 metri in 14,4 per linee esterne Picudas. Poi Pepita Bip, via via tutti gli altri. Si va al termine della prima piegata, i 400 iniziali in 31,3 stoppata evidente da parte del leader. L'errore la squalifica intanto per Petra PF. Per Tebar in avvantaggio accompagnato da Picudas. Poi Petra Almar, qualche problema d'impiego per pressing B che naviga in quarta corsia, 46,1 i primi 600 metri, 14,7 davanti alle tribune. Per Tebar in avvantaggio su Petra Almar e Prisca Spin che va in aggiramento su Picudas. 1,2 e mezzo i primi 8,16 e mezzo impiegata con Per Tebar che viene avvicinato da Prisca Spin. Poi Petra Almar raccontato la mossa in terza corsia anche di Pepita Bip dopo mille metri in 1,18 e mezzo. Per Tebar in avvantaggio, sbaglia anche Prisca Spin, sbaglia pressing B quando si va a 4,50 alla conclusione. Pepita Bip che si trova così in seconda. Petinata da Prunella e a largo Power of Love va a 15,4 di là in avvantaggio per Tebar. Problemi anche per Power of Love va a una corsa di eliminazione praticamente per Te in vantaggio. Pepita che lo fila, poi Prunella gli altri che non esistono a 150 dal palo. Per Tebar in avvantaggio in seguito da Pepita Bip e da Prunella per Tebar in leggero vantaggio su Pepita e Prunella. Non succede più nulla, vince per Tebar su Pepita Bip e Prunella. 2,4 e due linee, 33 la chiusa, 1,17,5 la media al chilometro per Tebar. La risolve in partenza, passa in 150 metri su Petra Almar, poi non si lascia più avvicinare sino al traguardo andando anche a strappi. Seconda termina Pepita Bip al terzo posto Prunella. 11,15 l'arrivo della terza.